Siamo tornati alla stazione Termini, oggi c'è un gradito ritorno, e anche un grande ritorno, l'ungherese. Ragazzi, chi non si ricorda l'ungherese? La famosa intervista che scosse la città. Due anni fa. Due anni fa. Uno dei primi video di Termini, anzi collegato al primo video di Termini, sì. Adesso ci porta lui a fare un giro in una zona che noi non abbiamo mai battuto a Termini. La parte destra, perciò via Volturno, via Montebello, ci ha detto che è una zona molto movimentata, però più radicata, cioè sono persone che da più tempo che stanno qua. Chi è? Ah, vedi, c'è Marco. Grande anche io Marco, vedi, stavamo a fare la presentazione, c'è anche Marco. Richmond mi ha detto che sarei quasi... Vedi, ormai siamo in una comedia, c'è anche dietro le quinte Richmond, dietro le quinte c'è. Vabbè, andiamoci a fare questo giro, se no oggi rimaniamo solo qua fissi. 50 gradi fanno, comunque. Andiamo nel posto carino della serata, è un po' per tutti quelli che staccano dal lavoro, la gente, diciamo, che ci sta in zona, chi lavora. Questa parte di Termini, oltre che bella, perché c'è tutto un parco archeologico e anche internamente ce ne sono degli altri ben visibili, è anche ricca di attività commerciali. Ci sono chioschi, chioschietti, eticole storiche, c'è un po' di tutto, ma è anche pericolosa. La notte. La notte, ma anche un po' al giorno, io ho visto qualcosa. Sì, del giorno un po' di meno, ma diciamo, a sera un po', quando scende il buio, a lì, lì ti devi un po', devi stare attento, perché portofogli, telefoni, magari ti molestano, sia, chi sia sia, c'è l'aggressività, magari quelle che stanno ubriando, magari quelle che stanno picciando, di altri cavoli, di San Campana. Poi al resto, diciamo, qua alle due muore tutto quanto. Qua ci sono le famose terme di Ocleziano, che tra l'altro ospitano pure musei importanti. Chi so io? Il Fabrizio Corona, no? No, no, come sembra Corona? No, te vado qua, sei tranquillo. Comunque voglio fare una piccola constatazione che qua, d'inverno buio, fai quattro, quindi se col buio c'è il problema, è apposta, ma dalle quattro l'inverno è brutto. Ma se sei una donna, mettiti un palo davanti e te dietro. Perciò qua c'è il chioschino nostro, dove andiamo con tutti gli amici, i camerieri, direttori dei locali, i ristoranti, che sarebbe Damiano, che si fermiamo a beve qualche birretta, soddisfazione senza problemi. Però c'è dei problemi qua, eh? Con qualcuno che ha bevuto troppo? Ma ogni tanto sì, però dipende dall'ora, sì, da una serie di fattori. Voi siete solo ragazzi adesso, vedo. Sì. Di giorno. E non c'è dei problemi? Sono ragazzi giovani, così? No, riusciamo a tenere a base la situazione. Sei abituato ormai? Sì, però diciamo che da quando ci siamo noi comunque un po' si è ripulita. Avete ridato un po' l'impronta alla zona. E in che modo si può ripulire uno scenario così? Eh, dimostrando che si può essere, cioè si può stare qui, con persone fresche, carine, a modo, e non succede niente. Basta cambiare il giro, insomma. Bisogna non ospitare quelle persone che magari vogliono qualcosa a poco prezzo. Ma ci allontanano proprio loro se vedono che c'è gente di un altro tipo. Sì, no, vedono gente che non sta al gioco loro, non si fermano perché non puoi stare, nel senso, nell'essere umani civili che si comportano a maniera. Qua, sì, servito, riservito, però ti devi comportare a maniera. No, perché facciamo capire perché è proprio davanti alla stazione Termini. Se io guardo, vedo pienamente la stazione Termini, qua però è tutto pulito, è tutto ordinato. E sto muro una volta, che tra l'altro è un monumento, faceva schifo. C'erano di tutto, sporcizia, urinatoio, birre buttate, tutto di più. Oggi lo trovi pulito, poi metti i tavoli. Perché? Ripeto, ci siamo noi che diamo... Eh no, mi ha colpito, perché io non puoi che non venivo qua. Da quant'è che state qua? Diciamo da un anno e mezzo effettivo che stiamo lavorando proprio tutti i giorni, stiamo aperti tutti i giorni. Non so se ti viene in mente un episodio spiacevole, una situazione limite che capitera qua magari nelle ore notturne. Allora, io solitamente lavoro di giorno, però mi è capitato un anno e mezzo fa, quindi ancora quando donavamo gli ombrelloni, eccetera, che c'era qualche ubriaco che ha spaccato delle bottiglie qua in mezzo ai clienti. Quindi, però da lì abbiamo messo la sicurezza, quindi la sera c'è un addetto alla sicurezza, ma adesso c'è talmente tanta gente, vede che è un posto carino che queste persone non si avvicinano. Questa è via Montebello. Sì, qua dove siamo stati la prima volta, ricominciamo dalla Sessa Tarantella, e qua quella via là che è multietnico. Ti sembra una via bellissimo, tranquillissimo, però la notte si trasforma, di tutto e di più. Non è che sono tutti bravi e buoni, qua pure un pochettino come via, come la Sazione Termini, che sta in campana, eccetera, eccetera. Perciò diciamo che ti devi profupare dopo una certa ora, particolarmente se sei una donna, o particolarmente se sei un turista. Però visto così è molto tipico, caratteristico, c'è quello dove si mangia, dove fai i capelli, altri che stanno all'altro. Cioè, c'è tutto quello che vuoi. Non è neanche sporco, nel senso... Sei in termosifone, che hai fatto? C'è caldo. Questo locale, quello che era prima, che sarebbe l'africano, che tutto quanto, che diciamo... Lui è Davide, un eritreo bravissimo, che ci conosciamo un amico. Ciao! Ciao! Lui si muove Mattia, grande, grande. Grande Mattia! E diciamo, qua ci incontriamo noi, e facciamo le serate, chi beve, chi qua, chi là, si destra, sinistra. Mi chiamo David, David Mayweather. Mayweather? Mayweather Junior, anche su TikTok. Qua noi prima facevamo pugilato, e va bene, non siamo forti come voi, però qualcosina. Beh, è giusto. Dopo che mi hanno fatto nero, ho lasciato perdere. E tu, guarda, tu non sei l'unico che qua può far male, eh? Dice Mattia. Guarda, Via Montebello, comunque, alla fine è sano come posto, cioè, ogni tanto ci stanno un po' di casino, però, comunque, si controlla sempre, ci sta pure Angari qui. Proviamo a controllarlo, perché qua ogni tanto ci stanno i tarantelli, però, diciamo che, andiamo avanti. E il grande prattore cinese, e allora, 14 anni che lo conosco, che sopporta un po' tutti. Dì, che fa ragione. il grande Teddy pure. Ecco, Teddy. Permesso, vattene a casa tua, gli chiedevamo permesso, perché mica ti ha chiesto niente, nessuno. Che succede? Non ti piace, se abbiamo chiesto il permesso. Vabbè, dai, non offendiamo zia, eh? Che stiamo facendo il c***o? Non offendiamo, non offendiamo zia, dai, zia, tranquilla, signora, zia, ci riprendiamo a noi. stiamo facendo la ripresa soppina. Che non vuoi la camera? Allora vai a casa tua. Tranquillo. Ma no, ma nessuno le riprende, che vuoi tu? Tranquillo, tranquillo. Tranquillo. Che vuoi tu? Che vuoi tu? No, no, no. Che vuoi tu? Ma che vuoi comandare? siamo là, siamo là così. Che vuoi tu? Se non ti ha detto io. Passa, devi la piazza. non lo spiega. Tranquillo. Passa, sei venuto. Ma cacca di c***a. Che? 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 Sta tranquillona. No, ma la cesta. Ma non stiamo facendo riprendere. Ma nessuno ti ha ripreso, ma chi ti ha detto un c***o? Ma stiamo là a riprendere. No, stiamo là a parlare, tranquillo. Non riprendiamo, sta tranquillo. La vita è qua. Non è così. Non parte, non me li prendi. Perché sono troppo bello. Poi dopo si... No, ma c'è... No, no, non lo serve la... Ma lo sapete che succede certe volte che noi non riprendiamo le persone. Poi loro si mettono un mezzo di... Ma noi stiamo là? Qua siamo tutti i giorni a se s*****a. Bumba da pamba, bumba da pamba, bumba da pamba. Poi lui non vi riprende. E che sei? Alendelondo, chi sei? Alendelondo. Poi a mezzanotte fai macelli. Poi cacchier c***o a quest'ora qua. E non venire a c***o a c***o. Infatti, ha detto un po' male, ma il ragionamento filo. No, noi stiamo là a parlare. Stiamo là, c***o. Ma io, non ti piace? Vabbè nemmeno. Se la paravolica un amico. Ecco, mio amichetto, solo che lui si è vergogna. Sai, i cinesi non scherzano. Piano, però qua, lui dice, dopo il casino, casino, dice lui. Casino che? Che casino faccio io qua? Adesso è tranquillo, poi dopo c'è il casino. Se pego un'altra pira è casino, Pino. Già ha rotto il c***o, ha rotto il vetro oggi. Parla, 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 parla. Ma ogni tanto succedono sopporta. Io so quello che parlo e io quello che faccio casino. E sono tanti anni però che stai in Italia? 22. Sono 22 anni che stai in Italia. Qui Simone è mio amico. Tu sei uno direttore dalla Cina all'Italia? Sì, 2001. Ammazza tutto sto tempo. Aveva anche Lila. La famiglia, c'ha due figli. E qui poi c'hai tutti amici però, vedo? Tutti, tutti amici suoi. Mamma, papà, veramente li vogliamo bene, Pino. No, Pino è grande. È grande. Sopporta un po' troppo. Ho visto che deve pure intervenire in certi momenti. Abbiamo pure il sacco di buffe da lui però ce li lascia. Timo, qua c'è stato cotto e crudo. Ma perché ancora il giorno c'è la luce? Già te l'ho visto. Sì, ho visto comunque si è scaldato. Eh beh, il domenico, poi stiamo con amicizia. Stiamo a parlare tranquilli. Con l'ultima di ***, ti ricordi? Mattia, tu non hai visto niente? Sì, sì, stiamo a far vedere. Sì, sì. Ma tu fai la guida? No, no, io faccio un altro lavoro. Davide è un amico nostro. siamo amici d'anni. Sempre insieme. Noi diciamo che c'è la gente che odia la camera perciò come hai visto o si alterano, se ne vanno. Però se tu vedi nel buio tu vedi il boom. Che appaiono. Eh beh, ti ho detto, la notte è un'altra storia. Ci cambia la storia. Sì, cambia proprio l'aria qui. C'è l'aria? Eh sì, ci stanno un sacco di matti. Però vabbè, finché ci siamo noi, cioè, comunque non per essere. che ne so, cioè, i supereroi. Tony Montana. però siete magari riconosciuti come persone nel quartiere. sono anni. Ci porta rispetto. Un po' di rispetto, insomma, ecco. Poi, poi comunque venite pure in pausa al lavoro perché tipo lui sta, lui che ne so, staccato al lavoro. Staccato adesso al lavoro, si vediamo tutti e si piavamo una birra, facciamo un aperitivo. Ho fatto sei anni di pugilato. Dai, hai fatto bene. Un bel po' di incontri, però, vabbè, facevo. Ecco perché si fa rispettare. Lo sai, io non lo so. Ma nessuno di noi vuole la violenza. Anzi, violenza. Più che sta lì a parlare con chi c'è un incontro come te, come lui. Non stavamo qua tra nessuno. Ne ho riconosciute. No, ma di metterci poi a far pugilato con la gente per strada proprio non c'è senso. Scusa, Amina, andiamo via. Scusa, Amina, ma noi non stavamo riprendendo te, stavamo parlando tra di noi. Ok? Ciao, ciao caro. Dai, pace. Ciao, basta. Va bene? Ciao. Ciao. Non avete visto tutto, ma poi adesso abbiamo fatto, ne so, tipo 6-7 foto. Questo per dire che... testimonia che era un solo un fraintendimento. Esatto, che spesso, come dice sempre Cica, aspetta, come dice spesso Cica, noi facciamo che fare i nostri, stavamo parlando con delle persone che sono intervenute loro sul passo e poi magari uno dall'altra da 20 metri si iniziano ad alberare. Accade sempre, cioè tu parli con un gruppo di persone che stanno lì con te, 20 metri più là ha gente oh, perché stai a far video? Ma stavamo a parlare con loro che tra l'altro sono venuti loro, cioè poi dopo quelle stesse persone vengono adesso e fanno una foto con te. E' vero? Aggiungi proprio il fattore. Sì, perché... Ma perché è una cosa che cosa non voglio fare vedere che io sono differente di te, voglio fare il bravo avanti a tutti, poi ho visto l'ungherese allora no, ho visto l'ungherese allora mi voglio mettere a parte e non me ne fregno. Poi alla fine sei più sporco dell'ungherese, scusami. Discriminazione tra virgolette. Il lavoro sporco hai fatto te. Noi spesso, vedi, dobbiamo spegnere queste situazioni a buffo. Perché noi stiamo affacciati a fare i nostri quello se è un albero a 10. Mattia, io ti prego di venire qua dopo le 10 poi vedi la tarantella, lì si vengono a vedere. Se questo è l'antipasto a vita no. No, questo è l'antipasto. Ti voglio bene ma noi non potevano all'amminaglie, capito? No, perché ne ha capito che ti tirano le bottiglie e ti vengono. purtroppo non è perché dici... Scusami, ormai siamo collaudati. No, no. E ci fate caso che a 20 metri c'è il Ministero del Tesoro? E qua c'è il Municipio. Eh no, però il Ministero del Tesoro, qui c'è la Polizia Municipale, ecco qua c'è il comando. E che ci fate? No, per farti capire... Non là, qua. Eh, ecco qua, qua c'è il comando. Eh ma no. Però il Ministero del Tesoro è uno dei posti più presidiati in Italia, sta là, quel palazzone gigante. Sì, i soldi. Qui intorno a Termi stiamo dicendo quanto è bella sta zona. È centrale, c'è sta la parte archeologica, c'è solo le mura serviane, c'è sta una delle piazze secondo me più belle di Roma. Una delle vie potenzialmente più belle di Roma che dritto per dritto ti porta esattamente a Piazza Venezia giù in centro o al Colosseo se gira da sinistra. Però c'è un'area verde di sosta, un parchetto dove teoricamente tu puoi venire a trovare il refrigerio, puoi stare tranquillo che è un disastro. Noi l'abbiamo trattato quante volte, guarda. Questo non significa che è sporco perché non lo puliscono, ma questo significa che è sporco per mille motivi. litri e litri di tavernello buttati per terra ovunque, sotto gli alberi. Qui ci dovrebbe essere il bagno del comune di Roma. Guardi, là sopra ci stanno le piante che invece di fare le piante sono lo stendino dei panni. Cassette, guarda, bacinelle, buchi dei topi, qua, c'è di tutto. Guarda. Guarda qua, ha preso fuoco tutto, qui ci fanno i fuochi, raga. Ma dici qua un buco, qui si lo cancella. Li conosco loro. Ovviamente questa è un'area bella problematica. Poi loro ci stanno, c'è chi si riposa. Ciao raga, tutto a posto, come state? Ciao raga, ciao. Bene, voi? Ciao. Ciao. Io sto qua. Tu stai qua. troppo mi hanno preso tutto il che c'è dai, mi hanno rubato. Ti hanno rubato tutto? Alla Caritas ve l'hanno rubato. Alla Caritas ve l'hanno rubato? Alla Caritas ve l'hanno rubato? Quando siete andati a mangiare la Caritas? Ti per esempio, dove sei? Io sono Tunisia. Tunisia. Voi pure? Pure te sei tunisino? Tunisia. Come ti chiamate? Haiman. Haiman? Voi? Kamel. Kamel. Kamel, te? Matti, voi siete musulmani? Fatihi, Fatihi. La, 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 la. Mohamed Rasul, la, la. La più bella parola del mondo. Ah, grande. Quanti anni hai te? Io, 30 anni. 30 anni? Questo è il microfono, così si sente con le dite. Sì. Quanti anni hai? 36. 36 tu? 21. Sono giovane. Ah, sei giovane. E da quanto è che state qua? Dove? In Italia. In Italia? Tre anni e mezzo. Tre anni e mezzo. E hai sempre vissuto per strada? No, sono persone lavoratori io. No, ma mica una cosa brutta, cioè nel senso, non è una colpa. Sono lavoratore, però ne sono trovato la vita come voglia. E sono arrivato qua, diciamo, per giustare il passaporto. Allora, è stato un giorno qua, dormito qua, perché sono un po' stanco così. Ho svegliato, non trovato ogni zaino, né telefono, né portafoglia, né niente. Allora, sono arrivato per giustare un documento. Ho perso tutti i documenti. Porca miseria, incredibile. Spero troppo qua a Roma. A Roma è nata come oggi. Porca miseria. E tu, sei venuto dalla Tunisia, sei venuto qua, perché? Per lavorare, per fare una vita. Qual era il tuo sogno? Sono arrivato qua, quanto ce l'hai? Quattordici anni, arrivato in Europa. Io ho imparato sei lingue qua in Europa, senza studiare. Grande. Ne capito. Sono stato undici anni in Germania, e ora tre anni e mezzo, e qui sono in Italia. Capito? Come ti lascio un personaggio così, in mezza strada? Due anni. Però sono due anni che stanno qua, a fine. Non è facile per giustare i documenti così. Non hanno due anni, tre anni, si vogliono molto tempo. Che cosa si intende? Arrivi, ti fanno un documento e poi ti puoi spostare in Europa? No, però te lo lavoro dopo un regolo, lo lavoro così tranquillo. Posso andare al paese per vedere la famiglia, per vedere tutti quanti. E' importante queste cose pure, senza documenti, come posso vivere qua? Ma poi di pazienza ci vuole. Ce l'hai il cellulare tu? No, mi hanno preso pure. Qual è quello che hanno rubato? Quindi, sono venti giorni che non senti neanche la tua famiglia? Sei stato mai in carcere? Stato. Eh, perché questi sono classici segni. Dagli. Sono stato, sono stato, sai proprio. Sappiamo bene questo che vuol dire? Ma sì. Certo. Che vuol dire? Eh, queste sono autolesioni. No, contare il giorno è questo. La prima volta? Contare il mese. Contare il mese. Ma dove? In Germania questo? Per sapere sempre, ricordare sempre nella tua vita queste cose. Dice, ogni mese mi è costato un taglio, capito? Perché sta in carcere. Per non dimenticherai mai. Vedi, e poi, una parte di questo parco, in teoria, potrebbe essere salvaguardata. Il problema è, guarda quanto sporco là dietro. Ma non l'avevano ripulito un po' da tempo fa? Sì, erano venuti a ripulirlo, guarda. Vabbè, assurdo. Comunque non è che voglio, sai che poi Cicalone mi dice che ripeto le cose dieci volte ed è vero, però vedi, questa è la testimonianza che di base noi ci poniamo così, andiamo là, chiediamo il permesso, perché ci interessano poi le storie che coinvolgono i soggetti. Mai ha avuti problemi, strane con i malattie. Dunque, guarda, qui c'è una quantità di sporco difficilmente quantificabile perché non sembra. Quella è la zona bisogni, vedi, ci hanno messo i cartoni pure per togliere più velocemente, quando fai la cacca, la fai sopra il cartone, poi butti il cartone da una parte e è pulito per un'altra volta perché è molto, evi lì, non andarla con quelle scarpe, che sono aperte, cioè con le scarpe aperte lì in mezzo, senti che puzza. andrà indietro, invece c'è una particolarità, l'hai notata là sopra? La bandiera americana. Sì. Così. Chissà perché. Questo è il famoso albero che ha preso fuoco, tu lo ricordi? Sì. Chissà che fine affatto. Poi che ci abbattete tutto. Sì, ma altre persone si dormono. Comunque, guarda, qua è, regà, cioè, io non so perché quest'albero gli danno sempre fuoco. Secondo me ci buttano qua. A parte puzza da morire. Mamma mia. Occhio lì ai piedi, eh. E' bellissimo. Occhio ai piedi. Sorci, sorci, regà, è pieno di sorci dentro. Eppure uno era grosso come un gatto. Cioè, c'era un sorcio, c'era una zampa che era un gatto. Porca miseria. Poi considera che da poco tempo, ti ricordi che hai riaperto sto chiosco che era chiuso. Sì. Che poi c'è una cosa che nessuno dice, tu lo sai che quando vengono a fare, a tagliare l'erba col macchinario, quello, la cosa è girare velocissimo, sminuzzano le plastiche, diventano microplastiche, non sono più pulibili e sono altamente tossiche, sia al momento che successivamente. Cioè, creano proprio un inquinamento altissimo. Qui si è riuscito a spaccare un vetro, guarda. Quando noi facciamo blocking con retake a Colleoppio, che stanno le laiuole, prima, no, in teoria, chi lavora ai giardini dovrebbe prima raccogliere tutta la mondezza e poi tagliare. Invece tagliano, sminuzzano tutto e noi non riusciamo neanche a pulire perché ovviamente... quella si respira su microplastiche, fanno malissimo. Guarda qua, cartoni di vino, cose. Qui di nuovo fuochi, vedi? Fuochi, zozzeria, eccetera. Qui c'è una fontanella e poi qui c'è sta un locale. Questa è una fontanella storica della città dei pubblici. Capito? C'è il problema. Guarda, vi avete qua? Vieni, vieni. Rivodrilà. 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 Da 2 milligrammi. Cioè, questo per testimonian che succede la sera qua. Un rivodrilà da 2 milligrammi. Con l'acqua. e guarda, accanto c'è sta vino e alcolici. Praticamente partiva la luna. E' il colunio perfetto. Tu dici, perché succedono i casini la sera? Allora, tante persone vengono qua a fare... Fanno i bisogni. A fare mangiare, fare il caldo. E lo stiamo a vedere, abbiamo fatto tutto in giro. C'è qualche cosa che non è buono, gli obiettetti. E poi, io, ma c'è la, io farei tutti là. Ah, ma tutti occupi qua del... Io farei volontari. Ah, i volontari. Volontari, senza... senza niente, non bisogna imparare. Però non c'è se riesce a pulire. Io ho bisogno di che cosa... Guarda qua. Pulito oggi e domani e finirei come non c'è da fare niente. Dice, guardate la differenza tra quella zona che io purtroppo devo far il volontario pulirla e sta parte qui dove loro hanno il tavolo e tutto quanto. Allora, guarda questa parte, pulita. E sempre fare pulita. Tieni sempre pulita. E da, questa parte, dormire qua e lasciare... La famosa terra di nessuno. Lascia i giorni, lascia. mi spiace tanto a top occhio pieno da venire. Vedi, questo è il classico locale che investe, apre, cerca di mettere i tavolini, cerca di attirare i turisti, vedi, anche con un po' di iconografia del loro paese. Poi guardate, ragà, vi voglio far vedere... Questa è emblematica. Un disastro lì, sei, otto pattuglie ferme lì. Affacché? Cioè, questa è la domanda. Otto pattuglie da polizia, il disastro, rivotri, gente buttata per terra, sporcizia. Stiamo cercando. Stiamo cercando. Vieni, attraversiamo, così facciamo vedere. Così morimo. La differenza... La tua striscia, rossa. Eh, apposta. Per quello che... No, però colpisce un'area franca davanti a tantissime forze dell'ordine. Questa è l'Italia, cioè, come funziona l'Italia. C'è un'area dove puoi andare e fare qualsiasi cosa. Fatte il bitè, caga, fatte dei rivoli... Infatti, guarda invece quanto è pulito qua, per esempio. Guarda, tutte queste pattuglie lì, a che servono? Magari c'è un senso, so io che non lo so, però... Oggi, ma in genere, c'è sempre qualche personaggio magari conosciuto, anche straniero, che alloggia, perché qui c'è un hotel estremamente costoso, c'è stato delle sale comunque dove... C'è il cinema. Esatto. Lì c'è il Grand Hotel. Tu immagini, il Grand Hotel c'è la vista sui giardinetti Cacatoio. Ma questo signore fa... C'è Bancarella. Ecco lui, Michele, Michele che fa. Ciao. Michele, sei sparito, che fine hai fatto? Sei fatto una brutta fine per un mese. Tu male, vedi, guarda, c'ha le ferite. Sì, un mese di bibbia. De riposo, con grandi hotelle? Un mese... Che t'hanno carcerato, Michele? Un mese definitivo? Dal 2012. Alla mano, ma t'hanno carcerato. Per un mese? Dici anni. Un mese dal 2012, addirittura. Sì, t'ha arrivato un definitivo di un mese. Per 2012. Lui Boraccio vive in mezzo alla strada. Però c'è una piccola attività, vedete, gli orologi. Una piccola attività, la Boraccio, se deve pure campare. A riparare le cose pure? No, no, vende qualche cosetta, così facciamo. Ci riesce a uscire per te questo e quell'altro. Michele, quanti anni c'hai, se posso? 59, le devo fare il 30 di ottobre. Grazie. Di dove sei? Da dove provieni? Siciliano. Dalla Sicilia. Eh, si sente accesso. Si sente, forse. Da quanto è che non andava carcerato? Dal 2012. Quindi è uscito e dopo 11 anni l'hanno richiamata per farsi un mese. Per una fesseria, perché giù in Sicilia lavoravo con la bancarella così, ma avevo la licenza e solo pubblico. È arrivato un vigilo urbano ancora arrolato da poco. Uno giovane? Eh, sì. Mi ha detto la licenza, tieni, è solo pubblico, tieni. Dici, questo non è solo pubblico. Aveva messo le mani per sequestrare. Io gli ho dato il pintone. Lui è uscito la pistola. Sono venuti i colleghi suoi, mi hanno portato nel comando in grande digitale le foto e me ne sono andate. Ma non credevo che poteva succedere tutto da 2012 fino ad ora siamo a 2022. 23. Ma che le hanno dato oltraggio pubblico ufficiale resistenza allo stesso? Sì. Vabbè, meno male solo un mese almeno. Un mese, sì, ho fatto... Ma si è fatto male in carcere? No, queste sono bene varie cose che sono passate a febbrite. Ma è stato in ospedale a far vedere, sì? Sì, quando cammino parecchio mi fanno dolore allora per questo sto da fermo e vendo qualcosa per arrangiare la vita. No, 16 anni e mezzo che non vado in Sicilia. Io ho un figlio a 30 anni e l'ho dovuto lasciare non per colpa mia o per essere vigliacco, l'ho dovuto lasciare a 4 mesi. Lei ha fatto quello che ha fatto. Quando hai detto che la mamma di tuo figlio è stata un po' mignotta è perché ti ha tradito o perché faceva di mestiere? Non ero prostituta di mestiere perché avevamo un negozietto scendo il regale io lasciavo a lei e me ne andavo a girare col pulmino a fare le tendate vendite. Ora è venuto un amico di infanzia e mi ha detto Michele ti posso dire una cosa ma non ti arrabbi parla perché io sono una persona molto calma senza offenderla voi. Vedi che tua moglie sta a fare col rappresentante ho detto sposando la parola cosa stai a dire? Una peschella a 36 37 anni con una a 74 75 anni e l'ho visto con gli occhi veri l'ho visto con gli occhi veri sono diventato bianco come quella parete e il cuore mi stavo scendo avevo 800 mila lire in saccoccia sono venuto a Roma e sei più tornato in Sicilia vedi è stata una fuga proprio dalla delusione d'amore il figlio il figlio potesse non essere il tuo visto il tradimento il figlio è mio il stesso cognome mio il figlio è mio come no chiaro scusa mi permetto ma al di là che eri oggettivamente rimasto male di questo gesto però non hai pensato cavolo comunque quello è mio figlio abbandonato pure lui rimasto male ti dico poco che mi stava venendo l'infarto sono diventato bianco peggio di quella parete ho baciato il bambino avevo i soldi in tasca e sono venuto a Roma che storia mi chiamo mamma mia senza offesa per la persona così con le donne non c'ho più sentirente ma non pensa che proprio nel momento in cui uno è in difficoltà ora lei è in difficoltà la presenza della famiglia possa essere importante magari può essere un motivo per riconciliarsi signorina io famiglia non ce l'ho più papà è morto mamma è morta ho una sorella in Sicilia che neanche ci parliamo purtroppo a volte chiede a Dio le persone buone che non fanno male si trovano in brutte situazioni suo figlio dove vive? in Sbizzera nella terza parte della Sbizzera e lavora in una fabbrica di gelateria sta lì a lavorare e lui ogni tanto però prova la cerca oppure no? ho perso pure il numero di telefono si cerca si trova poi magari anche sui social così si fermano le persone per fare qualche acquisto? poco passano e mi regalano 50 centesimi 30 centesimi perché mi conoscono anche lui mi conosce tanto bene mi metto sempre qua dormo c'è un albergo che è chiuso e c'è un tettoio e di fronte ci stanno i militari quelli verdi che fanno 24 ore e sono tranquillo per lavarmi valo al Vaticano che hanno fatto le docce oppure a via Marsala grazie Michele buona giornata grazie Michele fa il bravo e fa il bravo andiamo la mano ci calo ce la fai se uno due tra te e me non so sa che che beve di più fa il bravo sei grande mi dispiace che sia andato là questo è lo storico cinema volturno che era famoso specie tra i giovani perché oltre ad esserci dei film a luci rosse c'erano pure i spettacolini c'aveva un entourage che si partiva dalla mattina presto tu facevi sega a scuola si poteva andare qua fino alla sera ma mica già di mattina ci stavano di mattina presto sì allora era un cinema a luci rosse la mattina presto prima i filmetti andavano vecchi film roba proprio riciclata e dopo c'erano le signore che si spogliavano sul palco e sotto al palco ma fino a che anni? questo fino a che ne è fallito c'è un valore storico e culturale in teoria e in più è morto il figlio del proprietario che era quel ragazzetto che è apparso nel nostro video ah ok chiaro lui c'aveva pure questo il ristorante del figlio sarebbe quello là indiano per indicare la valenza dei video che abbiamo fatto che ormai sono quasi tre anni stavo facendo il calcolo e purtroppo muoiono le persone chi viene arrestato chi muore tossicodipendenza lui è morto là per overdose l'hanno trovato per strada purtroppo quella era la fine che avrebbe fatto nel senso che 30 anni ti bughi non è che ti puoi pretendere io l'ho conosciuto personalmente sia il padre Tonino e che il figlio ok stai tranquilla davanti alla stazione Termini che quella è la stazione Termini c'è questa piazza bellissima piazza Esetra super presidiata e noi da qua vi salutiamo chiese belle resti archeologici belli tanti turisti che passano però qual è il problema che come sempre Termini si distingue per zone franche basta avere un parchetto basta avere una via basta avere una cosa e lì si può fare quello che si vuole scusami ma tutto quello che ci sta a fare la ramanzina si sta lavando sulla fontanella si a petto nudo vabbè però meglio così vuol dire che si sta a lavare si sta a fare qualcosa e dietro di noi diverse pattuglie della polizia che stanno qua in presidio fisso che però non sappiamo poi se riescono a vedere anche loro queste cose perché secondo me ecco la prima cosa che dovrebbero notare è che ci sono delle persone in evidente difficoltà che girano vivono lì una domanda io la farei sempre che sta succede se nessuno si fa sta domanda ci saranno sempre delle zone franche detto questo noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video da Termini e dintorni di Termini perché oggi abbiamo fatto prevalentemente di Termini Termini abbiamo visto poco ciao regà ciao perfetto grazie a tutti